è quasi finita questa agonia voglio l'estate portatemi via ciao a tutti i ricordi e benvenuti oggi in un nuovo video scusate l'assenza della mia voce ma vi giuro non ho voce mi se n'è andata e sono disperato anche perché tra pochi giorni ho un concerto quindi oh mio dio voglio avere la voce a varga dar comunque sono finalmente tornato e sono stato un passiente perché ho iniziato a lavorare quindi non ho più molto tempo a disposizione però sto cercando di fare il possibile per continuare a divertirvi e portarvi nuovi video oggi visto l'eminente fine della scuola e vai! ho deciso di fare un video sulle tipiche frasi da fine anno scolastico e vi lascio subito al video non già faccio più ma quando finisci ti faccio in me scuola? tengo solo 3,5 ma ve li passano a 6? non già faccio più ma stanno levando la vita ma troppo camera per venire ancora a scuola e studiare c'è ragazzi ho studiato fatto penso che sto rindalezza ma non c'è proprio tempo in materiale per recuperare tutta sta roba sto accis spero che non ce lo debito e anche quest'anno lo passeremo l'anno prossimo ma quando finisci non so parte che a nessuno ci vediamo a settembre se vengo promosso allora ci stanno in youtube proprio a culo e all'anno prossimo inizio a studiare seriamente e anche se inizio l'anno speravo in tutti 7,8 adesso ma scontenti lo sei ma voglio bene voglio solo 5 di che debito? ma che ce ne fu? dio lo so che è tutto l'anno che ti chiedo di non essere interrogato ma che sei sicuro l'ultima volta e quindi fa succedere qualcosa perché non c'è lo cazzo eppure quest'anno debito assicurato devo fare 10 compiti 20 interrogazioni e recupera 6 materie o prima che mi dice manca poco o strozzo? cazzo ancora devo iniziare la tesina? sessione schiva! e vabbè ma contenti io al setico basta che amo promuovano acciritamo! e anche quest'anno ho fatto schifo ma sono pochi gianni e sto nella merdina merdona nella merda tutti dicono gli esami sono alle porte allora chiurimmo le sti porte cioè io sono pure tutta sta roba vabbè bocciato dacci il nostro sei quotidiano e togli i nostri debiti come noi li vorremmo essere togli le nostre professori e non ci indurre in dannazione ma liberaci dalla scuola amen! e quando capisci che non riuscirai mai e poi mai a recuperare le rose sono rosse il mare è blu datemi una finestra che vi butta giù! e questo era il video spero che tutti quanti riusciate a recuperare che tutto vada bene che veniate tutti promossi e soprattutto do un grande in bocca al lupo a tutti coloro che devono affrontare l'esame quindi in bocca al lupo a tutti voi ce la potete fare perché se ce l'ho fatta io ce la posso fare tutti e un bocca al lupo grande anche a tutti coloro che hanno la sessione estiva quindi un bacio ce la potete fare anche voi l'estate arriverà per tutti quindi dai e tutte! e adesso passiamo subito ai saluti e saluto Chiara-Gianna Tassio ciao! poi saluto Aurora ciao Aurora poi saluto TheRealFabi ciao! e infine saluto Camilla-03 ciao a tutti e grazie per seguirmi e darmi sempre sostegno io vi adoro un sacco e vi ringrazio se volete essere salutati nel prossimo video ormai sapete cosa fare seguitemi su Instagram e poi io scelgo tutto lì quindi andate su Instagram iscrivetevi al canale perché se non vi siete iscritti so dove abitate e verrò a cacar cobaleni sulle vostre case e noi ci vediamo al prossimo video ciao! Wuhuuu Cazzo lo c'essi! Wuhuuu Grazie a tutti!